Intro Eeeh, Artur è un grandissimo giocatore, dice qualcuno qua nella chat. Varkamega. Varkamega dice Artur è un grandissimo giocatore, adesso facciamo un discorso su Artur, no? Mi va bene, nel senso io lo conosco poco, non lo conosco, può essere benissimo un grande giocatore, è un giocatore che comunque al Barcellona non è sempre titolare, non ha sempre il posto da titolare assicurato, il Barcellona sta addirittura pensando di cederlo, il Barcellona vorrebbe Pjanic dalla Juventus, la Juventus è disposta a cedere Pjanic perché l'ha comprato tanti anni fa, potrebbe fare plus valenza, è un giocatore che in questo momento magari non ha neanche tanta voglia di rimanere alla Juventus, è un giocatore che in questa stagione ha dimostrato soltanto all'inizio di essere di livello e poi è calato tantissimo, e secondo me proprio perché in testa lui non ha più voglia di rimanere alla Juve, e si sta parlando di questo scambio tra Pjanic e Artur, tra Juventus e Barcellona, tra l'altro la Juve e Barcellona che dovrebbero aver aperto questo mega scambio perché entrambe sembrano essere in difficoltà economiche e quindi con gli scambi potrebbero approfittarne per mettere a posto i bilanci, no? Questa è la premessa, questo è il preambolo. Ma del Barcellona si parla anche tanto per Lautaro, per Lautaro Martinez che addirittura oggi leggevo potrebbe essere il colpo più pagato di sempre in Serie A e diventa problematico dato che la Juventus ha speso 80 milioni per De Ligt, 90 milioni per Higuain, non mi ricordo quanti per Buffon ma siamo sui 70-80 anche lì mi pare 75, ne ha spesi 95 per Cristiano Ronaldo, quindi vuol dire che in uscita c'è stato Pogba a 120, quindi vuol dire che Lautaro andrà via a una cifra così alta sui 110-120 milioni di euro. Adesso mi viene strano pensare che il Barcellona possa davvero avere questi problemi economici incredibili, tali per cui il giocatore, stiamo parlando di Artur, debba essere per forza scambiato per Pjanic o alla pari o in qualche modo la Juventus debba addirittura aggiungere soldi perché si parlava di Semedo, di Desciglio, di 25 milioni e tutta sta roba qua. Allora, se il Barcellona vuole davvero prendere Lautaro Martinez, non mi viene il nome, che spenda questi soldi, che lo prenda all'Inter, mi va bene perché, come ho già detto l'altra sera, mi piacerebbe tanto Lautaro Martinez tra la Juve ma sono assolutamente convinto che questo non possa cadere, ma che vada dall'Inter, lo paghi e se lo prenda, ma che poi non venga da noi a fare la carità, a fare la colletta pensando che gli stiamo regalando i giocatori perché non deve assolutamente essere questo il messaggio, il concetto che passa. La Juventus può cedere Pjanic? Deve cedere Pjanic? Secondo me non deve cedere Pjanic, può cedere Pjanic sì, per le motivazioni che vi ho detto prima. È obbligata a cedere Pjanic? No, delle due Pjanic anche me lo tengo o comunque lo do a qualcun altro, sicuramente un club interessato a Pjanic ci sarà. Si vocifera che Juventus e Barcellona addirittura abbiano concluso questo scambio, nel senso che i due club siano d'accordo sulla valutazione da dare ai cartellini dei due centrocampisti e dell'eventuale conguaglio economico che poi arriverebbe da una parte o dall'altra. Pjanic sarebbe convinto della destinazione a Barcellona, sarebbe d'accordo a trasferirsi a Barcellona e ovviamente come da ritorto perché un giocatore con la sua tecnica e le sue qualità andare a Barcellona dove queste cose sono sempre state il fiorocchiello, dove sono sempre state il non plus ultra, la base, il concetto di calcio, assolutamente posso crederci che Pjanic abbia sposato con entusiasmo l'idea di trasferirsi a Barcellona. Ma mi dà terribilmente fastidio dover leggere che la trattativa è conclusa, e anche qua io ho i miei dubbi, ma la trattativa è conclusa se aspetta soltanto che Artur dica sì alla Juventus, perché il giocatore non è convinto dell'ipotesi Juve. Allora, caro il mio Artur, tu magari arriverai alla Juve, magari Pogba non ce lo farai rimpiangere perché sarai terribilmente più forte, sarai il più forte di sempre, vincerai i sette premi d'oro con la Juve, non lo so, non lo posso sapere, ma leggere di un giocatore che il Barcellona vuole dar via, perché non è convinto, e tu stai rifiutando la Juventus, poi tu hai tutto il tuo sacrosanto diritto di pensare voglio rimanere a Barcellona, però se adesso tu stai facendo di tutto per non lasciare il Barcellona, e per non venire alla Juventus, a tutti gli effetti, io penso anche che se sono un tifoso juventino mi girano un po' i cosiddetti, perché poi magari tu arrivi dopo una corte serrata per farti arrivare, ma tu non eri minimamente convinto dell'ipotesi di Juventus, questo mi darebbe tanto fastidio, e credo che la Juventus in questo momento abbia raggiunto una dimensione tale, per cui non debba essere lei a pregarti, ti prego vieni a giocare nella Juventus, bensì dovrebbe essere il contrario, cioè che tutti i giocatori di un certo tipo possano aspirare o ambire di venire alla Juventus, poi capisco, giochi a Barcellona, giochi commessi, giochi in una squadra che magari esalta anche le tue caratteristiche, e tu puoi assolutamente voler rimanere lì, te lo ripeto, è un tuo sacro santo diritto, però se poi eventualmente si concluderà la trattativa, tu diventerai eventualmente davvero un giocatore della Juventus, ti prego non andare davanti alle telecamere, ai microfoni, a dire è sempre stato il mio sogno, ho spento per venire, la Juventus è il massimo, volevo la Juve, a Barcellona sì, ci sono stati innamorati, però bla 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 bla, non dircele, non dircele, perché a quanto pare, se queste voci dovessero essere confermate, semplicemente volevi rimanere là. Questo è il mio concetto, la Juventus non deve pregare nessuno di venire a giocare nella Juventus, se tu sei entusiasta, se tu sei euforico del pensiero di poter venire a giocare alla Juve, bene, le porte sono aperte, c'è spazio per tutti, e poi ci dimostrerai il tuo valore. se sarai un giocatore in grado di farci battere il cuore, noi ti vorremmo per sempre bene, sempre, 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 se dobbiamo pregarti per venire a giocare la Juventus, mi dispiace caro mio, abbiamo sbagliato in partenza.